L'ansia di quando dicevi Jay, droppa gli la sfera. È che stavo guardando l'altro, ne aveva sei, tu ne avevi una, le hai droppate, abbiamo vinto. Sì, sì, una cosa da fare è quello, se uno pensa a fare le sfere del drago e non si fa vedere dal cattivone, vinci la partita. Let's go! Dai, proviamo a vincerla. Oh, però no, come survivor abbiamo tante vittorie. Ciao Jay. E' sopra di noi, eh? Ui, senso. Siamo di trovare la chiave. E' qui sopra. Ok, sta andando via. Sopra di noi. Una sfera del drago, a posto. Dobbiamo trovare la chiave della zona B. Se troviamo la chiave, GG. Chiave, ok. Eh, è bel lontano, posso fermare qua. Lancia il razzo, lo prendiamo. Chiave! No, rip. Vabbè, livello 1 e mezzo a posto. E' buono oltre a... Non lo so. La navetta l'avete proprio esplorata, no? Il radar, buono. Usalo, usalo, usalo. Vai. L'unica zona che non ho esplorata è quella lì. Mantia di vegeta al posto del coso, così posso fermarlo. Pack! Oh, oh, è bue. Uh, c'è davanti, eh. Attento. Attento, Dave. Chiave. E che palle! Dammi la chiave. Oh, bella! Cazzo lo stiamo arreccando, eh. Radar ricerca, chiave del potere, ci può stare. Andiamo nella zona D. Prendo la chiave. Sì, 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 sì. Facciamo così. Ciao, Jay. Cerco la chiave, eh. Voi andate a cercare subito il punto della chiave. Ok, buono. Dovrei essere al tre. Oh, altri senso. Ok, vediamo un po'. Eh, un bel problema. Adesso l'ho presa solo con lui. Trovate la chiave! Trovate la chiave, trovata! Bella, bella, è stata impostata, ok. Non ti posso salvare, cazzo. È lì che campra, non posso salvare. Cazzo, è diventato coso, eh. Voglio provarti a salvare, Jay, ma non riesco al momento, eh. Ciao, Jay, sono qua. Sono qua per te. Dai, devo arrivare al tre. Porca Eva, devo arrivare al tre. Giusto faitare un pochino. Cazzo, sta distruggendo la macchina. Ma vaffanculo il radar. Dai! Dammi la roba per andare al tre, per favore. Lasciamelo. Ok, vai, puoi prendere. Vado a combattere. Ci sto provando, eh. Dove cazzo è? No, ma non mi venire giù! Eh, vaffanculo, mi ha preso. Rip. Cazzo. Calma. Cerchiamo di capire come fare. Cerchiamo di capire come fare. Ma vaffanculo, ho usato i guanti di Vegeta. Devo cercare di capire come fare qua. Ah, c'è un altro. Allora, se distrugge la macchina del tempo, la cosa migliore da fare è... ...cercarla. In questo caso, è fare questo. Sarò il demonio. Aiuto. Ho dovuto fare questo, rip. Ah, fuck. Volevo salvare qualcun altro. C'era un altro, ma Cristo. Mi è arrivato subito addosso. Che palle. E che poi non dura un cazzo sta Time Machine. Cioè, gli tira due colpi, te la distrugge. È una merda quello. Ho questo ci so. Ho questo. Ho questo.